Ci troviamo a Gallico con la signora Giovanna Colella e con Antonino Fazio, figlio del colonnello Cosimo Fazio, morto il 15 di agosto del 2013, pochi giorni dopo aver assunto il comando della polizia locale di Reggio Calabria. Una morte che ha rattristato tutti coloro che lo hanno conosciuto ed in particolare la famiglia e ha gettato nello sconforto la famiglia. Una morte tra l'altro che l'ho accolto sul campo perché proprio quel 15 agosto sbarcarono a Reggio Calabria circa 160 migranti e lui volle andare di persona ad occuparsi del soccorso di questi migranti e lì in una giornata molto calda spirò. Ecco Antonino, parlaci di tuo padre. Papà era una persona per le istituzioni e delle istituzioni, una persona che ha creduto in quello che faceva e ci ha creduto fino all'ultimo. morendo appunto sul campo. È chiaro, io sono di parte, essendo il figlio, non posso che parlarne bene, però devo ammettere che la figura di mio padre, soprattutto dopo la sua morte, ha avuto per me un significato particolare perché è lì che ho capito sia per l'affetto della gente sia per quello che ha rappresentato dopo quella che è stata la sua vita professionale, istituzionale. Ecco, il dovere prima di tutto perché lui era da pochi giorni il comandante della polizia locale di Reggio Calabria, anche lì per spirito di servizio accettò quell'incarico, 15 agosto poteva anche mandare qualcun altro a coordinare i soccorsi e l'arrivo dei migranti, però scelse come sempre di esporsi in prima persona. Sì, quello di papà tra l'altro è un caso storico perché ha una doppia valenza storica. Il primo perché era stato il primo doppio incarico a livello nazionale. Papà manteneva comunque l'incarico di colonnello dei carabinieri presso la scuola allievi di Reggio Calabria e da 13 giorni comandava la polizia municipale della città dello Stretto. E tra l'altro è storico anche lo sbarco che avvenne a Reggio Calabria. Mentre ad oggi è tutto organizzato e si riesce a prestare i primi soccorsi nella maniera più dovuta, all'epoca io ero presente quella mattina con lui a dare una mano, devo dire la verità, era molto difficile. Lui poteva sì stare a casa, essendo il primo dirigente poteva demandare ad altri, però preferì seguire direttamente in prima persona proprio come fa un vero comandante quelle che erano le dinamiche di una situazione che ripeto era molto particolare. Sì, tu tra l'altro hai detto che era molto contento, ho letto da qualche parte, hai detto che era molto contento quella mattina perché tornava sul campo ad occuparsi tra l'altro degli ultimi a contatto con la gente, quindi questo suo impegno, questo suo servizio era molto importante per lui. Mi è piaciuto perché hai detto da qualche parte che ti ha abbracciato più volte quella mattina. Beh sì, papà da buon siciliano era solito abbracciare i figli di notte, quando appunto dormono, proprio forse probabilmente per temprarli, per cercare di dare il giusto affetto per prepararle una vita che non è facile. E quella mattina devo dire la verità, era molto felice perché a dispetto degli ultimi anni di carriera che l'avevano visto un po' confinato in ufficio, un po' come un leone in gabbia, era tornato a stare a contatto col pubblico, con i cittadini e in quel caso a contatto con i più sfortunati. Quindi aveva una gioia che mi ha trasmesso quella mattina con ripetuti abbracci. Sì, certamente la storia del colonnello Fazio la conosciamo un po' tutti, uomo operativo, uomo che ha dato il suo contributo veramente soprattutto negli anni 80-90 nella piana di Gioia Tauro, Traurianova, Polistena, Cinque Frondi, in quell'impegno lì. Poi c'è stata una pausa a Messina, poi è tornato a Reggio Calabria, la prima volta al comando della scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, poi successivamente invece come istruttore. Quindi questo incarico lo prese veramente come un ritorno sul campo. Teniamo presente che all'epoca c'era un commissariamento, la città era commissariata, c'era bisogno di un uomo al comando della polizia locale, e lì la triade, la commissione straordinaria che governava Reggio Calabria, pensò a lui e lui si gettò in questo progetto, in questa idea, proprio per tornare sul campo, anche se manteneva ancora il ruolo di colonnello dei carabinieri. Sì, quella di papà è stata un po' un film. Lui inizia la carriera vera da carabiniere quando da capitano si ritrova negli anni 80 a Taurianova, dove si vede un protagonista di tre guerre di mafia, che l'hanno visto anche coinvolto in vari conflitti a fuoco. Poi da lì fu chiamato a Roma, probabilmente per Miandolo, per quello che era stato il suo impegno in terra di Calabria. Abbiamo girato un po', siamo stati anche in Sardegna, per poi tornare in Calabria, prima a Catanzaro e poi a Reggio, dove ha ricoperto vari incarichi, anche alla Centrodia, come vicecomandante. È chiaro che probabilmente tutto questo suo escursus abbia attenzionato quella che è stata poi la scelta della triade commissariale, che voleva una persona per risollevare le questioni di una polizia municipale, che purtroppo ad oggi ancora a Reggio Calabria soffre determinate problematiche. Torniamo all'attualità, cosa sta succedendo per un uomo di cui abbiamo parlato, senso del dovere, spirito di servizio, sacrificio, insomma un uomo che pur provenendo da una regione diversa, amava molto la Calabria, in particolare Reggio Calabria e questo territorio. Cosa sta succedendo? Cosa succede perché ancora tutt'oggi, la morte avvenuta il 15 di agosto 2013, ancora tutt'oggi non ha degna sepoltura il colonnello Fazio? Possiamo dirlo questo? Sì, possiamo dirlo. Sono ormai tre anni che lo urlo a gran voce, si può dire. Il problema qual è? La Calabria è una terra strana perché laddove ci sono calabresi con un gran cuore e che hanno motivato mio padre a stare appunto in questa terra e a dare la vita, ce ne sono altri, fortunatamente la minoranza, che molte volte hanno un po' il dente avvelenato e probabilmente tentano di togliersi qualche stupido sassolino dalla scarpa, proprio memore di quello che è stato l'operato di mio padre. Questo è chiaramente un mio pensiero perché alla luce di tutto quello che è stato l'operato di mio padre non capisco come mai io mi ritrovi oggi ad avere mio padre sepolto in un mero tugurio. Questo perché? Perché mi ritrovo davanti a un'amministrazione comunale ottusa, falsa, che dice delle bugie che veramente mi sono anche riservato con i miei legali di prendere le dovute precauzioni per questo genere di situazioni, che si è posta in uno stallo incredibile. Laddove io con tanto di delibera, che mi concedeva la possibilità di avere a titolo gratuito un mausoleo, poi per vari vicistituti non si è potuto realizzare, ad oggi io mi ritrovo a chiedere semplicemente tre metri, pagandoli ovviamente, non voglio nulla gratis, per fare la struttura ovviamente a mie spese. In tutto questo il comune invece di venirmi incontro e accontentarmi si pone con una serie di bugie infinite che veramente fa male. Torniamo indietro. La morte del colonnello Fazio fece scalpore, arrivarono da tutta Italia per omaggiare la Salma e quindi dare veramente importanza a questo avvenimento. La tria della Commissione straordinaria promuove una delibera, promuove questa delibera, poi nel frattempo subentra il sindaco di Reggio Calabria. In una prima fase sembrava tutto semplice, poi nel corso degli anni si è tutto un po' incartato. C'è stata anche una polemica poi alla fine con il comune di Reggio Calabria, con l'amministrazione comunale di Reggio Calabria. C'è stata, io la chiamo, una corrispondenza che poi non c'è stata effettivamente, perché non si è capito bene cosa sia successo con le ultime polemiche poi di questi ultimi mesi, con gli interventi di vari assessori e poi anche il tuo su alcuni giornali. Spieghiamo anche questa fase in cui non c'è stato dialogo tra voi, famiglia e invece il comune di Reggio Calabria, a partire dalla delibera dei commissari dove in effetti sembrava tutto facile. Sì, il problema è proprio questo. Non so se è una mancanza di comunicazione o non si riesce a capire o non si voglia capire. Quando la tria del commissariale delibera un riconoscimento a mio padre, anche su proposta il Presidente della Repubblica e del Ministro Alfano, circa la costruzione di un mausoleo, appunto deliberano affinché venga eretta questa struttura. Che cosa succede? Che a distanza di circa 7-8 mesi io vado a chiedere perché non vedo smuoversi nulla e mi viene risposto che non ci sono soldi. Da lì io non mi sono mai impuntato o ho battuto i piedi, come si è permesso di dire il nostro sindaco, descrivendoci come una famiglia capricciosa. Abbiamo subito ringraziato la cittadinanza tutta, in quel caso l'amministrazione retta dalla triade e abbiamo disposto di farlo a spese nostre. Chiaramente in quel caso non avevamo più intenzione di fare un mausoleo perché quella è una cosa per la città, ma chiaramente fare una cappella di famiglia. E da lì una serie infinita di problemi. laddove il progetto che mi era stato fatto dal comune, che poggiava su 12 metri, nel momento in cui io chiedo di fare una cappella di famiglia mi viene detto che i metri invece sono solo 3. Io allora chiedo, scusa, come mai erano 12, ora sono 13? Dice no, quelli ve li abbiamo dati così, en passant. E questo mi fa un attimino riflettere perché cosa significa che mi sono stati dati in maniera abusiva? Questa è una cosa molto grave, è per me che voglio dire, sono figlio delle istituzioni e dovevo fare una cosa a norma di legge. Quindi questa è già una cosa che non è chiara. Anche lì iniziano una serie di rimpalle e di problemi, se non che aspetto l'elezione del sindaco per cercare un attimino di interfacciarmi con lui e vedere un po' il da farsi della situazione. Il sindaco non ci ha mai voluto ricevere, benché lui dica più volte a mezzo stampo, invidio, che le porte del Palazzo San Giorgio sono sempre aperte, ma io le ho sempre trovate sbarrate. Siamo stati accolti dall'assessore Marcionò, il quale ha avuto un comportamento che definire irrisorio è quasi poca cosa. Però non abbiamo cercato comunque di andargli incontro, cercando chiaramente di capire quelle che erano le esigenze del Comune e unirle un po' alle nostre. Situazione che poi è andata degenerando perché il comportamento della Marcionò, ma anche dell'amministrazione, perché poi sono intervenuti anche altri assessori che non c'entravano in questa vicenda, iniziando a descrivere la nostra famiglia come una famiglia capricciosa, una famiglia che chissà che cosa pretende, che in una situazione comunale disastrata a livello economico faceva pretese di chissà quale tipo. Quando noi alla fine chiedevamo semplicemente tre metri in più rispetto ai tre, che tra l'altro ho pagato, che non mi è stato dato nulla gratuitamente, per fare un minimo di cappella. Tra l'altro tre metri in più perché mi viene detto che per fare una cappella ci vogliono cinque, sei metri o giù di lì. Da lì quindi la situazione degenera, perché inizia uno scontro tra me e questa amministrazione comunale. Scontro che non avrei mai voluto perché non mi interessava entrare in questa situazione, però è chiaro che se a pensare male si fa peccato, molte volte ci si azzecca. E quindi cerco di capire il perché si arrivi a questa situazione e forse la spiegazione la trovo in quella che è stato l'operato di mio padre in passato, che proprio con il padre dell'attuale sindaco si è trovato a scontrarsi, diciamo, anche se mio padre seguiva semplicemente degli ordini di magistrati e quindi siccome il padre dell'attuale sindaco è stato più volte toccato da numerosi avvisi di garanzia, mi pare 49, ma solo 29 li ha notificati mio padre, allora ho visto questa situazione come una forma di vendetta, come una forma di capriccio che tende a vilipendere l'immagine di mio padre. Io tramite i miei avvocati ho mandato comunicazioni a tutti, dal Presidente della Repubblica a Renzi, al Ministro degli Interni e della Difesa e anche al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, i quali onestamente mi dispiace ma non mi hanno dato risposta. Arma dei Carabinieri che tra l'altro mi ha dato anche, non so se chiamarlo una delusione o meno, perché questa è una situazione che vorrei ancora capire, perché durante un consiglio comunale il consigliere di minoranza in Balzano solleva appunto la questione di mio padre e l'assessore Marcianò dice che sono stati presentati ben otto progetti alla mia famiglia e che sono stati tutti rifiutati. Ora, a parte voglio dire che di fantasia credo che ce ne sia veramente tante in questa storia, ma questa le supera tutte, perché otto progetti non li ho mai visti, di fatto ho dato mandato ai miei legali di fare un accesso agli atti per vedere un attimino di cosa si tratta. Tra l'altro la Marcianò asserisce di avermi mandato una mail pack, cosa che io non ho mai ricevuto perché non possiedo una mail pack, e di aver mandato circa tre raccomandate con ricevute di ritorno e lei asserisce, lo dice pubblicamente in video a mezzo stampa, alle quali io non ho risposto in maniera strumentale. Lei asserisce di aver mandato queste raccomandate anche per conoscenza al colonnello Lorenzo Falferi del comando provinciale di Reggio Calabria e alla prefettura, anzi al prefetto. E continuando dice che il colonnello Falferi, lo dice lei, non sono parole mie, lo ha accolto più volte in ufficio scusandosi per il comportamento della famiglia Fazio. Allora che io, una volta letta questa cosa sui giornali e vista in video, mi sono subito prodigato a chiamare il colonnello Falferi chiedendogli lumi circa questa situazione, ma chiaramente per cercare di capire un attimino dove si vuole arrivare, che cosa vuole fare la Marcianò. E il colonnello Falferi non mi ha voluto rispondere. Signora, potevate pensare che alla morte di suo marito sarebbe successo tutto questo? Voglio dire, la storia, l'impegno, il sacrificio, il senso del dovere di suo marito merita tutto questo? Perché sento parlare di burocrazia apparentemente, poi Antonio ha focalizzato la situazione su altro, però lei immaginava che sarebbe successo tutto questo? Assolutamente no, perché per come mio marito voleva bene questa gente e si è prodigato fino all'ultimo per questa gente, è rimasto in Calabria per questa gente, onestamente, ma non è la gente di Reggio Calabria che sta facendo questo, è una persona singola che non fa nemmeno testo secondo me. Quindi io non ce l'ho né con le persone di Reggio Calabria, né con la Calabria, è una persona singola, perché mio marito veniva stimato e voluto bene per quello che faceva. Mio marito era felice proprio perché era ritornato in mezzo alla gente ad aiutare la gente, come ha sempre fatto e ha sempre voluto fare, dicendo io il mio stipendio me lo devo guadagnare, devo fare questo perché mi piace, perché mi rende soddisfatto. Questo è il risultato, non va bene perché non pretendo io soldi dal comune e l'ho detto ben chiaro ad altre trasmissioni, voglio chiudere questa storia perché chi ne va di mezzo e mio marito che è posizionato lì da tre anni che la notte non ci fa dormire perché non è bello, dignitoso e corretto. Stiamo ricevendo, si possono chiamare insulti, perché questi sono insulti che ci fanno dicendo una famiglia capricciosa, chissà cosa pretende. Potrei dire mi avete deluso, illuso, perché mi avete presentato un progetto fatiscente alla grande e dopo non avete i soldi, ho detto va bene, me la vedo io, non voglio gravare sul comune, mio marito avrebbe fatto la stessa cosa e ne sono orgogliosa di fare una cosa a mio marito a mie spese. Ma si vede che tutto questo, cioè non ha senso quello che diciamo noi, non lo so perché. O si deve ragionare con una certa politica, per forza, oppure, e allora divulghiamo, facciamo almeno sapere alle persone che le cose non stanno come dicono i signori del Palazzo San Giorgio. Questo è. Antonino, non hai mai incontrato tu il sindaco Falcomatà, hai chiesto di poterlo vedere, di poter parlare di questa questione di persona, magari si può trovare un punto di incontro e chiudere questa vicenda che certamente è dolorosa per tutti. Ma io credo che un buon politico, un primis, un buon amministratore quando va in giro a chiedere voti dovrebbe poi ritornare tra la gente anche dopo aver preso questi voti e credo che io, ma chiunque si fosse trovato al mio posto avrebbe avuto, avrebbe dovuto avere quantomeno il piacere, diciamo, di parlare col primo cittadino per cercare appunto di arrivare a una soluzione. La cosa che mi addolora più di tutto è che non c'è mai stato questo incontro, io non ho mai posto una forma di chiusura, sono sempre stato ben accetto a qualsiasi forma di dialogo per arrivare a risolvere, però benché lui dica sia a mezzo stampo, invidio, che le porte di Palazzo San Giorgio sono sempre aperte, onestamente credo che potrebbe risparmiarsi questa battuta. Per voi la cosa che interessa principalmente in questo momento è quella di chiudere questa vicenda perché più si trascina e più dolore vi provoca pure questa storia? Sì, assolutamente, perché chiaramente da quando è morto papà io lo vado a piangere dietro una lastra di cartone e non è decoroso perché credo che nessuno, al di là di mio padre, di quello che è stato, ma anche fosse stato l'ultimo dei dimenticati, avrebbe meritato comunque una degna sepoltura. Quindi ripeto, la mia diventa anche una battaglia per cercare di dare forza affinché domani, se qualcuno dovesse trovarsi nella mia situazione, spero mai, non perda mai la fiducia di lottare, anche se vi assicuro che è una lotta veramente molto faticosa. È una lotta, tra l'altro, lo possiamo dire, contro uno Stato che ha servito il colonnello Fazzi e che ha servito fino alla morte e l'ha servito sul campo. Io sono molto arrabbiata. Sono arrabbiata riguardo al sindaco. Ritorniamo indietro. Perché il sindaco mi chiama a Paris San Giorgio d'Oro 12 ore prima, quando noi dovevamo andare a Limbadi, a ritirare un altro premio, mi prega di fare presenza a meno uno di famiglia, ci dividiamo io e mia figlia al comune e mio figlio va a Limbadi, andiamo a ritirare questo San Giorgio, mi illudo che se avessi rifiutato magari si sarebbe indispettito di più il sindaco. Ci vado per la speranza che il sindaco, ho la speranza che il sindaco mi poteva parlare anche del masolè, della sepoltura. Niente di tutto ciò. E allora, ma di che cosa stiamo parlando? Perché il sindaco non mi ha chiamato per il cimitero come ha fatto con il San Giorgio? Questo vorrei sapere. Le porte di San Giorgio sono aperte, ma io non posso venire da te. Così, ci vuole un appuntamento, un qualcosa, mi devi ricevere. Chiamami. Come hai fatto con il San Giorgio? Chiamami. Mi ha chiamato direttamente lui. Come si spiega sta cosa? Come si spiega? Alla fine, Antonino, cosa chiediamo concretamente? Cosa diciamo? Come ultimo appello, come appello quello che vuoi fare tu, insomma, per chiudere questa vicenda? Perché alla fine non chiedete molto. Siete pronti a fare pure da soli? E quindi questo messaggio, credo sia arrivato a Palazzo San Giorgio, che siete pronti a fare da soli? Basta che ci sia un minimo di disponibilità da parte del Comune? No, ma è già da tanto che noi abbiamo detto che vogliamo fare da soli. Non vogliamo niente da nessuno se non questi fatidici tre metri che mi servono per poter, aggiunti ai tre che già possiedo, per poter fare questa costruzione. Va da sé, questo lo devo dire per onestà intellettuale, che comunque quell'attività che ho iniziato con i miei legali di risarcimento d'anno comunque continuerà. Perché laddove io comunque andrò a sistemare il mio padre a mie spese, chiaramente io non posso permettere che il nome di mio padre sia stato o abbiano tentato di infangarlo in questa maniera. Perché significerebbe andare a non dare merito a quello che è stata la vita di mio padre. Già mi ritrovo a dover combattere con lo Stato centrale, per farlo riconoscere vittima del dovere. Quindi non posso accettare che a Reggio Calabria succeda una cosa del genere. Per mio padre e per chi verrà dopo di lui. Sulla storia del colonnello Fazio parlano i fatti, parlano tutto quello che ha fatto nella sua vita, ma parlano anche coloro i quali hanno collaborato con lui. Il procuratore Bohemia ha speso parole veramente non solo commoventi, ma importanti sulla sua persona. E questo credo che vi dia conforto in questa vicenda, che certamente più si trascina e più produrrà frutti negativi. Perché queste cose vanno chiuse fin da subito e così non è stato. Un ricordo del colonnello, lei l'ha seguito sempre nelle sue vicende e certamente non è stato facile. Un carabiniere, non come tanti, ma un carabiniere che, la mattina diceva arrivederci, ci vediamo più tardi. Poi andava, veramente si parlava prima di conflitti a fuoco, quindi fino a sera, fino a notte fonda, perché i suoi ruoli sono stati sempre, fino a un certo punto, almeno operativi. Devo dire grazie ai carabinieri che erano sul posto, con noi in caserma, perché se non fosse stato per loro a starmi vicino, mio marito non lo vedevo mai. All'inizio stavo un pochettino andando di testa, perché notte e giorno, notte e giorno, morti, ammazzati. Alle volte me ne andavo nella centrale, perché volevo sentire la sua voce per vedere se era ancora vivo. Ma è questo, mio marito, prima veniva sempre in lavoro, potevo stare male, con la febbre, niente, veniva sempre prima il lavoro, prima gli altri, perché erano gli altri che avevano bisogno di lui. Noi stavamo già bene come stavamo, quindi ricordo il più bello che è di mio marito e questo suo attaccamento per il lavoro, ma senza farci mai mancare niente a noi in famiglia, di affetto e di tutto. Antonino, tu eri lì il 15 agosto del 2013, papà è ispirato fra le tue braccia, si può dire così, e quindi anche questa sensazione, questo ricordo che ti porterai per tutta la vita, però cosa vuoi che gli altri ricordino di tuo padre? Ma la frase che mi sono sentito dire più spesso dopo la morte di papà è che era morto un eroe. A me piace ricordare sempre che papà non era un eroe, era l'anti-eroe per eccellenza, forse la differenza sta nel fatto che noi viviamo in un mondo sbagliato e dove fare cose normali come fare il proprio dovere porta a pensare di essere degli eroi, quindi mio padre era semplicemente una persona normale che forse a differenza di altri faceva il suo dovere. Cimitero di Modena questa è la situazione che ci troviamo stamattina è stata collocata così ne abbiamo parlato prima una figura molto importante un uomo dello Stato un servitore dello Stato che è morto per lo Stato e che è morto in una giornata particolare abbiamo ricordato come lui il 15 agosto del 2013 soccorse e coordinò tutta quella giornata è una giornata molto molto afosa una temperatura altissima è una giornata in cui molta gente va al mare Antonino va in altri posti invece lui direttamente è andato lì a Reggio Calabria e poi ha pagato questo sforzo quel 15 agosto Sì noi tra l'altro abbiamo prenotato il ristorante dovevamo andare con la mia famiglia a pranzo fuori poi ci fu la chiamata del dottore Castaldo quella mattina e chiaramente salto tutto Salto tutto magari come tante altre volte così come tua mamma ci raccontava perché lui metteva sempre prima il dovere il servizio l'impegno verso gli altri e poi la famiglia ce l'ha detto molto bene tua mamma Sì infatti sono poche le mie foto di famiglia che ritraggono la mia famiglia al completo nelle varie festività natalizie o compleanno o quant'altro però capisco ad oggi che era il lavoro di papà era il suo impegno che lo portava ad essere assente per noi ma presente per altri e lo faceva a fine in fondo e noi siamo qui perché forse proprio qui doveva almeno inizialmente era in progetto dove doveva venire la struttura dove doveva essere poi collocato il colonnello Fazio però poi lo hai raccontato molto bene prima questo era il sito poi anche qui insomma anche questo sito è andato non si capisce non si è capito bene come e qui però tu hai acquistato tre metri sono questi tre metri che hai acquistato tu hai detto anche che hai già pagato all'agenzia delle entrate questi tre metri e si attende un segnale dal comune sono qui i tre metri sì sì ho pagato tre metri all'agenzia delle entrate inizialmente tra l'altro all'inizio pensavamo fossero sei poi leggendo bene le carte ci siamo resi conto che erano solo tre metri a terra come puoi vedere ci sono i segni perché originariamente qui doveva essere diciamo il luogo dove era stato destinato papà poi anche qui una situazione che non si capisce bene perché il comune prima mi dice che non me li può dare che sono stati già venduti poi mi dice che me li può dare però li devo comprare quasi sempre questa forma di imposizione a pagare ma ripeto e lo tornerò sempre a ripetere che io non ho mai chiesto nulla gratis sì lo abbiamo raccontato prima insomma anche tua mamma ci si aspettava che dopo una vita spesa per lo Stato al servizio dello Stato e con quell'impegno che lui ci ha messo ci si aspettava che ci fosse maggiore considerazione dopo la sua morte che quindi questa vicenda fosse chiusa non dica immediatamente ma già prima possibile ed invece si trascina si trascina da tre anni e questo certamente quando vieni qua al cimitero vedere questa situazione non ti rattrista ulteriormente mi rattrista molto perché non credo che papà meriti meriti questo e tra l'altro c'è anche un altro problema se tu vedi papà è messo proprio a terra e quindi raccoglie tutta l'umidità che chiaramente queste strutture possono accogliere dato che non è che ci sono coperture quando piove insomma l'acqua tende anche ad infiltrarsi quindi non oso pensare lo Stato anche della Barra come sarà quando dovremmo cambiarlo e chiaramente sarà un ulteriore pugno nello stomaco assistere a uno spettacolo che non sarà piacevole certamente il colonnello Faccio essersi dedicato sempre agli ultimi soprattutto poi la morte come è stata le ultime vicende forse nemmeno lui avrebbe immaginato tra l'altro non essendo calabresi ha scelto questa terra veramente forse si aspettava una una maggiore considerazione così come lui ce l'aveva ce l'aveva per per questa terra Antonio ultime ultime cose veramente battute perché anche noi usciamo scossi da questa storia da questa vicenda che racconteremo e che raccontiamo ai nostri telespettatori però voglio dire rimane la mare in bocca rimane la mare in bocca perché non può essere trattato un uomo così anche se Antonino mi permetto qui siamo siamo al cimitero già nel corso della sua vita forse per quelle vicende che hai raccontato tu era già stato messo un po' da parte ma sì la carriera di papà ha avuto degli alti e poi ha avuto dei bassi inspiegabili ai quali vorrei avere delle risposte non so se mai le avrò ad oggi però mi interessa risolvere questa situazione è chiaro che l'affetto che papà nutriva per questa terra che ci ha portato a far nascere mia sorella che è l'unica calabrese della famiglia denota quanto papà appunto fosse riuscito a capire quello che è il vero senso del valore dei calabresi e sicuramente non sarà il comportamento sbagliato di pochi ad infangare assolutamente quello che è il buon nome dei calabresi che papà ha insegnato a me e la mia famiglia a farci apprezzare ecco noi chiudiamo adesso questo appuntamento lo chiudiamo così sperando di poter tornare e che il colonnello Fazio nel frattempo abbia trovato degna sepoltura noi saremo qui assieme a Graziano Tomarchio e Carmelo Tripodi il sottoscritto che vi parla saremo qui a testimoniare che qualcosa nel frattempo è successo e naturalmente speriamo che si trovi la soluzione a questa tristissima veramente tristissima vigenda grazie a tutti